I collezionisti che appartengono alla mia vita, che sono dentro la mia memoria, sono persone che hanno contribuito non soltanto nel collezionarmi, ho avuto la fortuna che possono far parte proprio della mia vita e della mia esperienza, quindi con cui condivido emozioni, esperienze, avventure che mi hanno fatto crescere e che mi danno ancora un modo di vedere me stessa diversamente e quindi questo cresce dentro il mio lavoro che non è una metamorfosi ma una trasformazione continua e loro sono con me in questo divenire.